Andiamo a collegarci con Riccardo Sbertoli. Queste chiacchierate sono veramente fantastiche. Non prepariamo niente. Oh, Riccardo, con te la commissora. Ciao, mi senti? Ti sento bene. Come stai, Riccardo? Tutto bene, grazie. Insomma, in quarantena a casa, però tutto bene. Beh, ho letto una tua intervista sul vostro sito, insomma, sui vostri social di Power Volley, in cui hai detto che Milano è spettrale in questi giorni. Tu che sei milanesi, in effetti si respira una situazione un po' particolare in questa città. E non solo, ma a Milano in maniera particolare. Perché di solito è così caotico. Ti saluta, tra l'altro, ti saluta Simone Anzani e dice... Eh, va bene. Taglio da quarantena, lo definisco. Milano è un po' strano, eh, dicevamo? Sì, è una situazione surreale, come ho già detto, perché, sai, abituati in una metropoli così ogni volta che esci, ma anche solo il fatto di stare in casa. Io abito a Milano, in città, diciamo, non in periferia, e quando vai a letto la sera senti i rumori, il bar di fianco, le macchine che passano. Comunque è una città in cui c'è sempre un po' di rumori, di confusione, anche se esci a metà mattina per andare al supermercato e vedi un sacco di gente in giro. Adesso, ultimamente un po' meno, diciamo, però per un mese e mezzo è stata veramente pesante. Se riusciva per andare al supermercato non vedevi un'anima in giro, non passava una macchina, era stato veramente un po' particolare. Guarda, Fanulli, che ti saluta. Io ti faccio vedere una fotografia che ti ritrae in mezzo al giardino verticale, perciò questo, voglio dire, è il presente della Pallavolo e il futuro, con il presente e il futuro dell'architettura italiana, milanese e anche internazionale, perché Milano è una città internazionale. La domanda è, cosa rappresenta per te Milano e cosa rappresenta per te la Pallavolo a Milano? Intanto io cambio la maglia e metto una vecchia maglia della Revival, perché la tua non ce l'ho, perciò è subminiale. Arriverà, arriverà. Bravo, non è subliminiale, intanto io cambio la maglia e tu parla. Ma allora, Milano per me, diciamo che per tanti giocatori, la maglia della propria squadra potrebbe significare un passaggio della propria carriera. Per me, per ora, visto che è l'unica maglia che ho indossato e visto che è la maglia della mia città, sicuramente ha un peso diverso, sia dal punto di vista dell'orgoglio che delle responsabilità. Perché io adoro Milano come città, probabilmente sono molto di parte perché ci sono nato, ci sono sempre cresciuto, però penso che sia una delle migliori città in cui vivere in Italia, ma forse anche non solo in Italia. Quindi diciamo che sono molto attaccato alla città. Il fatto di poter vestire la maglia di una squadra, del massimo campionato, dello sport che pratici nella propria città, dà quel tocco in più, diciamo, ogni volta che scendi in campo, è una sensazione particolare. Difficile da spiegare, ma bellissima. Hai visto che sono passato dal pallone bianco anche a quello di oggi, perché abbiamo fatto un salto da Valerio a te. Queste immagini qua, insomma, io ho un po' di immagini, sai dopo mi fai vedere cosa hai preparato. Ti riprende in fase difensiva con Abdelaziz, contrasto a muro, questo è un derby con Monza. La domanda che ti riguarda, perché tanto sono già arrivate e ti arriveranno, rimani tu a Milano, rimane Abdelaziz a Milano, puoi rispondere quello che vuoi, perché questi sono chiacchierate, ruota libera, ognuno può parlare. Io penso proprio che rimarrò a Milano, adesso penso sia sicuramente nel progetto della società e sicuramente nei miei progetti, perché adesso ci sai che il mercato si è un po' bloccato, tutto così, però io sono contento di rimanere a Milano, di continuare questo mio percorso in questa squadra, e questo progetto, che penso anche che comunque abbia creduto tanto in me anni fa e in cui io continuo a credere molto, visto che comunque anno per anno si stanno vedendo degli ottimi miglioramenti e quindi per ora penso sia ancora la cosa migliore per me. Allora dicono, ragazzo di grande spessore morale, l'ho visto lavorare dopo l'intervento al ginocchio, 3.000 sofferenze abnegazioni. C'è stato un momento della tua carriera, perché tu sei giovanissimo, voglio dire, non hai neanche 22 anni, li compi in 23 maggiori. Tra un mese, tra un mese, tra un mese. C'è stato un momento in cui giocavi sempre, giocavi in tutti i ruoli, giocavi in tutte le categorie, in tutti i campionati, ad un certo punto il tuo fisico ne ha un po' risentito e siccome io ti conosco da bambino e poi ti faccio vedere una bella fotografia, c'era un po' di apprensione. Sta giocando un po' troppo il ragazzo. Sì, magari è stato un po' l'effetto collaterale, il rovescio della medaglia, di essere molto precoce. A 14 anni facevo l'Under 15, l'Under 17, la serie B2 e a fine facevo tutti i giorni allenamento, due o tre partite durante il weekend. Quindi dopo uno, due, il terzo anno mi sono dovuto fermare perché ho dovuto fare un interventino al ginocchio, niente di troppo grave, però comunque era un sintomo che il mio corpo si stesse usurando un po' più in fretta di normale. Quindi sì, lì è stato un periodo un po' particolare anche per me perché era prima dell'Europeo per Ignores, con la Nazionale Giovanile, e diciamo che era la prima manifestazione importante con la Nazionale Giovanile. Quindi arrivare, cioè dopo tutti i sacrifici, arrivare lì, doversi fermare, non poter fare un Europeo, insomma è stato pesante. Però devo dire che dopo quell'operazione che ho fatto tramite la Federazione, che non finirò mai di ringraziare perché non ho messo le condizioni di operarmi a Villa Stewart. È andato tutto bene, sono riuscito a riprendere bene, anzi, meglio di prima. Quindi per fortuna è andato tutto bene. Bene. Ascolta, hai degli oggetti? Hai preparato qualcosa, Ricky? Sì. Valerio ho visto che aveva degli oggetti molto, io essendo molto più giovane ho cose molto più semplici. Oggi, hai visto Vermiglio un po' diverso oggi, da quello che ti immaginavi che ti avevo raccontato? Sì, lo vedevo giocare da piccolo quando ero, quando ero, come si dice, un bambino che, a proposito, quella finale di Atene di cui parlavate, è stata una delle mie prime partite di pallavolo che ho visto in tele. Ah, bella. Oggi, guardando la partita, siccome quell'anno avevo iniziato a giocare, ho detto a mio padre, papà, ma io ascolta, riuscirò mai a arrivare a giocare a questi livelli? Lui, ovviamente, non ci pensava, mentendo, ho detto, sì, se ti impegni puoi riuscire a fare tutto. Salutemi papà, ottimo pallavolista. Sì, è vero, vero. Allora, primo oggetto, ho preso questa, che è la mia prima medaglia della finale nazionale Under 15, finale nazionale Scudetto Under 15, che, diciamo, è stato il mio primo traguardo importante, anche se poi magari ne ho raggiunti di più importanti, dal punto di vista pallavolistico. E me la ricordo ancora perfettamente. Magari non mi ricordo partite di Superlega di quest'anno, ma questa me la ricordo ancora perfettamente. Allora, io ho visto, come ho ricordato prima, mio figlio ha giocato, ovviamente, a pallavolo, e giocava a Merate. Era in palestra da una settimana, perciò vi lascio immaginare cosa poteva fare, ma era un pulcino, aveva dieci anni, nove, dieci anni, e dopo una settimana organizzano una amichevole, subito, pronti via. E gioca contro di voi. E arriva questo bambino, che durante il riscaldamento batte in salto, attacca prima e seconda linea, picchia delle botte mostruose, e poi si mette a palleggiare, si mette a ricevere. E io vado dalla tua allenatrice in panchina e dico, scusa, ma questo qui chi è? Poi vedo il tuo papà e dico, sarà mica il suo figlio, eri tu. E devo dire che il futuro te l'avevo già disegnato, perché in occasione di questa partita, che è una finale regionale, che tu hai vinto, sei stato premiato miglior giocatore, vedi lì, sei stato premiato da Adriano Pucci-Mossotti, che era l'allora presidente del comitato regionale, io che ero lì a divertirmi, come mi piace fare con la pallavolo, ho preso il microfono, poi parli solo tu, dico, miglior giocatore di questo regionale, Riccardo Sbertoli, segnatevi questo nome, perché ne sentirete parlare, andrà in nazionale. Devo dire che capisco poco in generale, ma di pallavolo capisco, perciò ci ho azzeccato. Io mi ricordo di quel momento lì, mi ricordo anche della prima volta che ci siamo incontrati, anche se era tanto tempo qua, come si vede nella foto. Allora, diciamo che a me ha aiutato molto il fatto di essere, soprattutto nelle giovanili, di essere cresciuto molto in fretta. Io quando avevo 15 anni, ero già abbastanza alto, cioè più o meno come adesso, e avevo una buona motricità generale. Ho fatto tutti i ruoli, perché facevo proprio quello che serviva, e poi mi sono indirizzato per la mia strada, che era quella del palleggio, insomma. Però è sempre bello vedere anche le cose, penso che ormai sono passati 10 anni da quel... Ebbè, mica è una vita, mica è una vita. Dopo parliamo di nazionali, fammi vedere un altro oggetto, Vicky. Allora, un altro oggetto, in ordine cronologico, è il secondo che è sempre legato alla pallavolo, che è la prima maglia di Milano. Ah, fai vedere? bella, bella. Questa è bianca, e diciamo che nella mia vita breve da giocatore, ecco, quella l'anno dopo, ma sei sempre tu, ecco. Nella mia vita da giocatore, nella mia carriera, io mi sono sempre cercato di porre dei sogni, barra obiettivi. Diciamo, quando ho iniziato a giocare da piccolino, il primo era quello di vincere un campionato giovanile, e da qui la medaglia. Il secondo era quello di riuscire a arrivare a giocare, a misurarmi con i migliori, e da qui la maglia di Milano. Non ho messo la maglia della nazionale, perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare un'olimpiade, quindi ho detto, per scaramanzia, io non metto la maglia della nazionale, tra questi tre oggetti. E guarda qua invece, guardati. Ecco di qua. Eh sì, questa sì. Era già questa, era l'estate scorsa. Esatto, esatto. Maglia della nazionale. Allora, visto che il tuo sogno è giocare le Olimpiadi, e vista la situazione che stiamo vivendo, e vista le notizie anche di questi giorni, tra l'altro proprio anche di oggi, che è rimbalzata su alcuni giornali, e abbiamo parlato in queste chiacchierate, il presidente del comitato organizzatore dell'Olimpiade di Tokyo, che si chiama Yoshiro Mori, ha detto, Olimpiade sì, quando non si sa, cioè quando la pandemia sarà risolta in tutto il mondo, sì, potrete venire, altrimenti non si fa. Perciò Olimpiade, oggi i titoli erano, era Tokyo, 2-0-2, punto di domanda. Cosa ne pensi Riccardo? Ma, penso che da un punto di vista della sicurezza, sia impossibile fare altrimenti. Nel senso che, io ero il primo quest'anno a dire, speriamo non cancellino, cioè non rimandino le Olimpiadi, speriamo di poterle fare quest'estate. però poi quando ci sei dentro, e noi in Italia ci siamo stati dentro, ci siamo dentro, anche in maniera abbastanza pesante, ti rendi conto che, nonostante l'Olimpiade per noi sportivi sia proprio magari il massimo, anzi, senza la magari, tutte le cose più importanti, più importanti, e non dipende soltanto da noi, da quello che vogliamo fare noi, perché la salute nostra e di tutte le persone con cui viviamo può dipendere anche dal fare o non fare un'esperienza del genere, perché se uno inizia a viaggiare, andare in giro, poi è più facile che si contragga il virus, che si diffonda, e quindi poi peggiora solo la situazione. Quindi mi spiace molto, ma sono molto d'accordo sul fatto di averla rimandata data da destinarsi, quando si sarà rimandata. Concordo. Cos'è vestire la maglia azzurra, Ricchi? L'hai fatto tanto a livello giovanile, adesso lo fai a livello di nazionale A, cosa significa? È una grossa soddisfazione, perché ogni volta che, non solo che scendi in campo con quella maglia, ma quando sei in albergo che prepari la borsa per andare a fare una partita e la metti nello zaino, nella borsa, dici, caspita, ho una grossa responsabilità, da un punto di vista, però è una grande soddisfazione, una maglia che proprio fisicamente pesa, pesa di più delle altre, perché sai che c'è tutta l'Italia, che è il tuo paese dove sei nato, a guardarti, a sostenerti e tu rappresenti tutti loro. Quindi è tanta roba. 46 volte già in azzurro, hai vinto i giochi del Mediterraneo nel 2018 a Tarragona battendo in finale la Spagna 3-1, l'allenatore era Gianluca Graziosi che quest'anno ha lavorato fin quando era possibile a Siena. Cosa pensi dell'interruzione del campionato? Cioè, si arriva lì, si gioca, c'è la finale di Coppa Italia, dici, fra un po' ci sono i play-off, dai ragazzi che arrivano al momento clou, track, fermo tutto, ovviamente il motivo lo sappiamo ed è assolutamente condivisibile, ma cosa si prova da giocatore? È difficile perché poi per chiunque poi ci sono situazioni differenti, almeno io ti parlo per la mia, noi eravamo noi Milano eravamo in una situazione ottimale, forse la migliore sensazione dal punto di vista della fiducia che io abbia mai avuto con una squadra in un campionato. Stava andando tutto bene, eravamo messi bene, abbiamo avuto un sacco di difficoltà, abbiamo dato prova di uscirne di squadra e la cosa più brutta è che c'era proprio piacere a stare insieme e vedere fermare tutto così da un giorno con l'altro è stata dura. È vero anche che da noi si è fermato, dal momento in cui si è fermato tutto al momento in cui proprio esplosa la pandemia, cioè da noi non c'erano proprio le condizioni, quindi uno gli rode perché gli rode, cioè non poter andare avanti e tutto, però da un punto di vista non ci puoi fare niente, c'è qualcosa che è più grande di te e che ti viene imposto da un bisogno superiore che è quello di preservare la salute, quindi assolutamente d'accordissimo con quello che è stato fatto e io ero uno, sono stato uno dei primi anche a dire in squadra, ragazzi, cioè anche se eravamo tutti d'accordo noi, però a dire qui va fermato tutto, cioè perché ne va della sicurezza non solo nostra ma anche di altre persone. Stavo cercando ma adesso la chiacchierata va così, all'insegna, non dico della casualità ma insomma zigzaghiamo anche in base a quello che voi ci dite e la domanda volevo fartela anche vedere ma tanto lo sai, oggi il rapporto del CONI mette a rischio contagio la parola del primo posto, cioè l'indice di contagio è il più alto in assoluto tra tutti gli sport per il volley io prendo atto ovviamente non mi sento di contraddire nessuno dal punto di vista scientifico conoscendo la pallavollo ed altre discipline sono un po' stupito tu cosa ne pensi Ricco? Allora io come te non so in base a che dati che rilevazioni abbiano effettuato questi indici quindi non posso dare un giudizio scientifico come loro sicuramente mi viene difficile pensare che ad esempio rispetto al basket o rispetto al rugby al lavoro sia più facile contagiarsi anche perché noi siamo a stretto contatto solo nelle fasi di muro e qualche fase di difesa magari è vero che il nostro campo è più piccolo siamo più siamo più vicini però non saprei non saprei spero proprio che non che non venga fatta se mai si dovesse riaprire anche gli sport con gradualità che non venga fatta troppo una differenza per settore anche lì cioè come dire alcuni un conto è sì finché si dice come adesso gli sport individuali gli sport di squadra che posso capire un conto se si dice il basket sì la pallavolo no il rugby sì il calcio no cioè quello secondo me creerebbe un po' di incomprensioni no? quindi speriamo che vada tutto bene speriamo che non vada così no speriamo che vada tutto bene ascolta hai un altro oggetto? poi ti faccio vedere altre due foto poi ci sentiamo vai un altro oggetto non è di pallavolo è la mia foto di classe di quinta superiore stupendo perché? un bel po' di capelli in più ma perché io a differenza proprio per il fatto che ho iniziato a giocare a Milano quando ero in seconda terza superiore scusa ho avuto tra virgolette la fortuna che non hanno avuto tanti altri giocatori che è quella di fare le scuole a casa sempre nella stessa istituto senza sempre con gli stessi amici con le stesse persone senza magari dover cambiare ogni anno ogni due anni l'istituto perché magari cambi regione e questo mi ha permesso di rimanere molto attaccato alle mie origini che secondo me è una cosa importante che mi ha fatto bene nella mia crescita e poi perché ho condiviso il percorso scolastico con delle persone che sono diventate veramente strette adesso che continuo tuttora a vedere che mi hanno permesso un po' di fare un qualcosa di alternativo per quanto possibile alla mia carriera da giocatore perché anche quando ho 17 anni comunque sei un giocatore di serie A e ti composti da giocatore da serie A tutti i miei compagni mi hanno permesso di diciamo vivere anche le esperienze di un 17enne non solo di un 17enne che giocava in serie A e questo per me è stato importante sicuramente sì ma a questo proposito poi rispondiamo alla domanda che ti hanno appena fatto proprio perché sei un pallavolista ma ti lasciano fare queste robe? non più no quella è una cosa vecchia era stato forse la mia passione guarda ieri ho parlato con delle ragazzine mi hanno detto che quali sono le tue passioni purtroppo andare in moto le moto è tantissimo e no diciamo che adesso non pratico più ecco sei sempre tu le ho prese da un tuo profilo su pallavolo super volle ho detto ma cosa ti devo chiedere perché lo fanno andare in moto no la risposta è no no adesso anche personalmente sono consapevole che fare è una cosa troppo rischiosa è una cosa troppo rischiosa ti hanno chiesto cosa pensi del ridimensionamento proposto dalla vedo che l'hai detto già sicuro che qualcuno avrebbe chiesto ti hanno chiesto e ovviamente questa è una chiacchierata che facciamo a tutto tondo in assoluta libertà l'abbiamo avuto conferma anche prima con Valerio cosa ne pensi meno 20% pare per il momento almeno questa è la proposta della Lega non so se è una proposta o un obbligo non lo so dimmi tu ma in realtà da quello che è uscito sul primo comunicato che hanno fatto loro era meno 30% era meno 30% che vuol dire meno 3 compensi dei 4 che mancavano quando è finita si è interrotta la stagione ma io parlo molto sinceramente anche perché siamo tutti d'accordo tra noi giocatori con i procuratori e noi abbiamo diciamo proposto tramite due rappresentanti dei giocatori e tramite i nostri procuratori non lo so chi sono dei giocatori si può sapere Dragan e Sicci Dragan e Sottile e tramite procuratore noi abbiamo proposto le nostre idee no ovviamente cercando anche noi di andare incontro consapevoli che la situazione che si è venuta a creare non è né colpa nostra né colpa delle società quindi secondo noi una divisione equa di ciò che mancava degli stipendi che mancavano era l'ipotesi più sensata non siamo stati ascoltati molto a quanto pare e diciamo che adesso quando la Lega Pallavolo ha fatto uscire quel comunicato siamo rimasti un po' sbalorditi perché sembrava proprio voler imporre o comunque dare delle linee guida che le società avrebbero attuato molto più semplicemente noi adesso ci siamo un po' riuniti abbiamo fatto cerchio anche perché è una cosa che noi riteniamo importante tra di noi giocatori visto che non esiste una vera e propria associazione dei giocatori non ci sentivamo così tutelati abbiamo deciso di provare a metterci tutti insieme condividendo i nostri pensieri trovando diciamo un pensiero unico abbastanza in linea con i pensieri di tutti questo l'abbiamo fatto tramite i capitani per farci sentire un po' perché non riteniamo che diciamo questa proposta avanzata adesso dalla Lega sia conforme con il nostro pensiero e non ci sentiamo molto tutelati neanche da un organo che dovrebbe essere al di sopra delle parti un po'. Ora vi terremo ovviamente aggiornati vedete noi diamo voce ai protagonisti perché è una cosa corretta noi chiacchieriamo in assoluta libertà con tutti i grandi del volley tra l'altro domani vi ricordo sentiremo un allenatore che va tra l'altro via dall'Italia e va in Polonia a Resovia che è Alberto Giuliani poi sentiremo uno che come te è una grande speranza del nostro volley vale a dire Daniele Laglia ti faccio vedere un'ultima immagine e questo è sberto un po' un po' modello perciò voglio dire cosa è per te la pallavolo cosa ti offre anche al di fuori del campo ti senti protagonista personaggio chi sei? Ma allora in realtà io non mi sento molto personaggio nel senso che boh sarà che non ho mai pensato cioè sono una persona abbastanza modesta quindi anche quelle cose lì l'ho fatta una volta cioè sono trovato l'unica volta in cui mi ho fatto una sorta di shoot però no certo che quando vai alle partite così con le persone del nostro mondo ti senti un po' personaggio un pochino devi essere secondo me bravo a capire un po' qual è il diciamo il recinto all'interno del quale tu puoi essere considerato un personaggio non abusare di questa magari fama tra virgolette che hai nei confronti dei tifosi ed essere comunque sempre disponibile questo però non deve far sì che ti abbassi l'autostima cioè va bene essere modesti però comunque consapevoli dei propri mezzi dico bisogna bisogna che allora quello scatto porta la firma di Fiorenzo Galbiati che è il click della pallavolo da quando io avevo i capelli neri tu dovevi ancora nascere e tuo papà stava iniziando a giocare io smettevo penso pensa quando indietro andiamo abbiamo un minuto e mezzo per salutare ti dico una parola e mi dici in 30 secondi cosa ti evoca in te segrate infanzia infanzia segrate sono stati degli anni bellissimi perché è stato l'inizio di tutto è stato un po' il mio brodo primordiale diciamo cioè io ho iniziato lì proprio in cui ero un ragazzino non sapevo neanche bene cosa mi aspettasse là fuori e dalla pallavolo in generale e loro mi hanno veramente aiutato sia come giocatore che come persona perché è un posto dove si fa pallavolo in maniera sana bene ti insegnano tutti i valori non solo dello sport prima di salutarti ti faccio una risposta a Roberto ci sarà campionato sì come quando e dove lo vedremo si giocherà a porte chiuse probabilmente sì almeno fino a Natale questi parrebbero essere dei presupposti di oggi cosa metti nel tuo futuro Ricchi con questo ci salutiamo ma io non lo so non lo so cosa vedo spero di poter vedere serenità sia dal punto di vista sportivo che non e spero veramente di poter riprendere e tornare a divertirmi come facendo fino a qualche mese fa perché per ora questo è il mio unico pensiero tornare a giocare tornare a divertirmi a provare quelle emozioni che per noi sportivi sono come una droga allora te lo meriti ve lo meritate parlo voi della vostra generazione ho due figli che sono più o meno lì con te un po' più un po' meno perciò mi rendo conto di quello che state vivendo questa situazione è veramente irreale perciò spero veramente che si risolva tutto velocemente sei molto più maturo di quello che comporterebbe il tuo aspetto anagrafico ne abbiamo avuto conferma ricchi io ti ringrazio sei stato molto dispatico disponibile ci vediamo presto in campo speriamo mi raccomando bravo bravo così la prossima intervista la facciamo con la tua maglietta dietro grazie Riccardo Sbertoli grazie Valerio Vermiglio le interviste su dallarevole.com così potete rivederle poi domani alle 14 con Alberto Giuliani e con Daniele Lavia grazie Ricchi ciao buona vita a tutti